salve ragazzi e bentrovati su radio smeraldo oggi siamo qui in questa nuova puntata di pomeriggio con il talento in compagnelli di elia chitarrista del gruppo rumba de bodas ciao e benvenuto ottimo ok come va tutto bene intanto ottimo ok e guarda io comincerai da subito con le domande e la prima cosa che voglio chiederti è come nasce questo gruppo e come nasce il nome del gruppo ok allora il gruppo nasce ormai dieci anni fa perché questa nuova è il decennale è un gruppo nato all'interno dell'ambiente liceale bolognese alcuni ragazzi che avevano voglia suonare ma anche avevano tantissimo voglia di fare avventure infatti il gruppo ha cominciato fin da subito a organizzarsi per fare dei viaggi delle avventure delle peregrinazioni in giro per l'europa per suonare in strada o nei locali quindi ha subito cercato questa pena nomade insomma e tra l'altro io non c'ero neanche io sono entrato quattro anni fa nella band e all'epoca ci sono solo due persone delle sette attuali che fanno parte di quella stagione lì quindi pensa quante il progetto quanto ha fatto e quante persone sono cambiate sì infatti abbiamo cambiato tre cantanti un batterista io sono il terzo trombettista è un collettivo in divenire diciamo ok sì negli ultimi due anni c'è un po' di stabilità per fortuna il nome invece niente non mi ricorda neanche chi l'ha scelto noi praticamente abbiamo questa eredità perché non l'abbiamo scelto però ci piace rumba de modas vuol dire la rumba che in cronese vuol dire anche il casino la festa del matrimonio il matrimonio è spagnolo perché nei matrimoni sono quelle situazioni in cui si creano le situazioni un po' di delirio che cerchiamo nei nostri concerti quando tutti i parenti sono ubriachi e ballano o qualsiasi cosa l'euforia che crea la musica insomma a noi ci piace molto quella situazione lì è quella che ricerchiamo con il nostro spettacolo ho capito ottimo senti c'è un genere in cui vi rappresentate principalmente? la nostra particolarità in realtà è proprio quella di non avere un genere di riferimento si ho visto diciamo che la formula è quella di uno show che si esprime molto bene dal vivo e quindi come un po' le vecchie orchestre da valera che per fare ballare tutti passavano dal lento al rock'n'roll al cha-cha-cha a noi piace un po' questa idea nostalgica di fare una scaletta varia che si passa dalla cuglia al funk passando per un brano ska e quindi portiamo avanti questa formula qua che forse è anche un po' controcorrente oggigiorno però a quanto pare per il momento funziona si e in questo nuovo album il super power in realtà ci siamo popolarizzati sul funk e sul latim cioè ritmi latini tra la cuglia e il son cubano e ovviamente senza andare nel dettaglio le persone che diciamo non c'è per la cubana però ci piace importare delle sonorità quello che ascoltiamo lo filtriamo e lo portiamo nei nostri pezzi ho capito ottimo e senti e parliamo proprio di questo album super power buonasera si che ho letto che uscirà il 16 marzo ecco che cosa può aspettarsi un ascoltatore da questo album come dicevo prima sicuramente la varietà di stili e di sonorità questo è un album che piace se piace un po' la come dire appunto la vivacità dei ritmi ci sono pezzi funk, soul, cumbia, c'è un pezzo un po' latin rock alla santana c'è un po' di ska diciamo che non è un disco indie in italiano non è un album di settore insomma quindi penso che mi piace questo di quest'album la sua vivacità è un vario vinto ho capito ok senti e che progetti ha il gruppo per il futuro perché ho letto che è previsto un tour che toccherà anche fuori dall'Italia addirittura sì 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 ormai fuori dall'Italia in Europa siamo molto abituati ad andarci soprattutto in Germania da quando lavoriamo con Ludwig Sound che è la nostra agenzia di booking che ha sede a Lipsa e quindi diciamo che ci fa gravitare tantissimo in Germania, Repubblica cieca, Austria a volte arriviamo fino in Danimarca poi abbiamo una grande tradizione con l'Inghilterra e la Scozia perché sono due paesi in cui avevamo già cominciato ad andare a suonare anche quando semplicemente suonavamo in strada avevamo un furgone e noi diciamo andiamo in Inghilterra a passare l'estate a suonare nelle piazze poi là ci sono i festival avevamo cominciato a trovare qualche festival che ti aveva ingaggiato non budget a suonare nei gazebo particolarmente in Italia e quindi diciamo che torneremo con un tour un po' più strutturato in Inghilterra in Scozia in Luglio saremo ospiti per dieci giorni dell'Elling Brothers Festival e poi andiamo in Germania un po' tutti i mesi ormai la Germania a passare il Brennero per noi è andare un attimo dietro casa e poi la grande novità di quest'anno per la quale siamo veramente entusiasti è il viaggio in Corea perché in maggio andremo dieci giorni in Corea del Sud quasi non ci credi a dirlo mi sembra strano perché è una cosa talmente bella abbiamo vinto un bando del comune di Bologna che ci permetterà di finanziare parte del viaggio poi c'è una partnership con l'Istituto Italiano di Cultura Italiana di Seoul e quindi siamo riusciti ad organizzare questo tour suoneremo alla Seoul Music Week in cui avremo altri 4 o 5 concerti quindi un debut per la super power veramente incredibile Eh beh, posso immaginare Sì, siamo molto contenti Sì, infatti Ok, allora guarda noi ti ringraziamo intanto per essere stato qui con noi Grazie a voi ragazzi Grazie a te, guarda per me è stato un piacere poter parlare con te e tutta la radio augura il meglio a te e a tutta la band per la vostra carriera Grazie mille e buona continuazione Grazie mille a te, ciao alla prossima Ciao alla prossima Un'altra puntata di Pomeriggio con il talento è giunta al termine Vi ricordo come sempre di continuare a seguirci di iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo e continuate a seguirci su Facebook e su Instagram per rimanere sempre aggiornati su nuove interviste e nuovi eventi Io vi aspetto come sempre alla prossima puntata Un saluto a tutti voi e ciao 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 Ciao